Musica Al ventesimo su punizione 6-6 inizia a prendere la mira. Per la punizione vincente però bisogna attendere ancora 4 minuti. L'intervento di Blanc sull'assatanato conticchio per Borriello e di quelli da punire col calcio piazzato. La posizione è invitante per il destro di Sesa che strae un colpo da campione. Il suo quinto gol in Serie A, il terzo realizzato nelle ultime tre giornate, è sicuramente il più importante da quando veste la maglia del Lecce. Sicuramente se fai l'1-0 contro l'Inter poi vinci. Poi soprattutto adesso che siamo di nuovo nella lotta per la retrocessione sono tre punti fondamentali per noi. Sicuramente è il gol più importante. L'intervento di Bologna